Ma guarda, ovviamente la tua è una domanda legittima, però se facessimo l'errore di guardare la partita dopo il 2-1 è ovvio in maniera molto onesta, per noi è stata un'ammazzata perché credo di poter dire altrettanto onestamente che non meritavamo di stare sotto, Pescara era stato pericoloso, credo, solo nelle due occasioni dove ha sfruttato bene quell'opportunità, io parlo fino al 2-1, anzi se c'era una squadra fino a quel momento che forse anche con un po' di confusione però meritava qualcosa di più eravamo noi, è chiaro che il 2-1 ci ha messo in una situazione innanzitutto psicologica di vivere male quel quarto d'ora per due motivi, uno per la classifica, uno perché ci è caduto il mondo addosso e due perché giocavamo contro una squadra che io reputo fortissima, soprattutto nel palleggio, nelle ripartenze con giocatori tecnici, rapidi, ma soprattutto con centrocampisti che sanno fare il primo passaggio come Gaston che conosco benissimo e quindi l'ho vista brutta, tant'è vero che poi ci siamo allungati in maniera generosa però concedendo autostrade al Pescara in due occasioni con Monachello e con Marras poteva... anche con Brugman e Brugman sì, vabbè sì, tre occasioni, due clamorose diciamo così abbastanza davanti al portiere, però questa è una lettura, lasciami dire, un pochino da sprovveduti del calcio perché poi alla fine... Ma io infatti ho detto, i primi 20 minuti, poi parliamo dell'altro... No, 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 mi riferisco, ci mancherebbe, dico spesso magari uno si lascia attrarre dagli ultimi minuti o dai primi, no? Io credo in maniera logica bisogna analizzare tutta la partita e è chiaro che poi alla fine abbiamo cercato qualcosa, si vedeva che dentro avevamo solo l'aspetto nervoso non tecnico e siamo stati premiati, è un punto importantissimo, venuto dopo una settimana dove praticamente non ci siamo mai allenati, tra l'altro proponendo un sistema di gioco nuovo e abbiamo dormito in tre alberghi, una a Cosenza, uno alla mezza Termi, poi ieri sera qua e in campo siamo stati più sugli alberghi che in campo perché i geni del calcio hanno deciso che è giusto anche a maggio giocare tre partite in una settimana, visto che sono 19 squadre allora era giusto aggiungere anche i turni in fra settimane ancora di più e soprattutto l'altra cosa, e questo penso che lo stesso Pescara è stato danneggiato la vergogna di non giocare in contemporanea a due giornate dalla fine ma nessuno dice niente, io mi sembra di impazzire perché sembro di essere uno dei pochi coglioni che ancora vede il calcio in una certa maniera, ditemi voi, ditemi voi, se con chi oggi non ha giocato e sa il nostro risultato, vale, il nostro significa Venezia e significa Pescara è normale che fai calcoli, cioè non è scorretta chi fa i calcoli, è scorretto il fatto che non si giochi in contemporanea tra l'altro se proprio non vogliamo farli giocare in contemporanea, facciamoli giocare a venerdì l'ho capito perché non in contemporanea e anche dopo di noi che non abbiamo recuperato quindi questo è un discorso mio però tanto, allora, i presidenti si lamenteranno oggi però sono loro che accettano tutto le televisioni vogliono vedere, no è vero, è vero, perché se tu parli con le televisioni ti dicono ma guarda questo noi l'abbiamo proposte, la televisione vuole il sangue, vuole vedere più cose in più tempo ma questo è legittimo da parte della televisione quello che invece è assurdo è che le società non capiscano che a questo momento del campionato io dico le ultime tre, ma vogliamo essere proprio bravi, le ultime due devono giocare tutti in contemporanea se noi non riusciamo a mettere in campo queste cose allora ci sta che la Serie B ha 19 squadre ci sta che una squadra non si sa se forse verrà deferita forse no, cioè questa è la solita barzelletta del calcio italiano che se tu cerchi colpevoli, io uno, io ho detto che sono un coglione che non l'ho capito io vorrei che a quel coglione che sono io uno mi spiegasse chi è che ha deciso questo calendario di questa domenica Cosmi, torniamo un attimo le sue parole sono condivisibili ovviamente torniamo un attimo a parlare della partita lei ha detto che Pescara ha trovato i due gol in due occasioni create oltre a quelle che c'erano state nel finale il Venezia ha trovato due gol su due calci di rigore il secondo è sembrato abbastanza netto il primo per quello che abbiamo visto dalla tribuna c'è stato un tocco innocuo di Balzano su Bocalon che è crollato a terra quindi sono due regalati No, 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 il secondo è sembrato obiettivamente abbastanza il primo qualche dubbio lo ha detto anche Piloni ai nostri microfoni lo ha destato ma io non voglio metterla in difficoltà lei che ha visto dalla panchina? Guarda, premesso che quello che si vede da panchina è troppo di parte tanto è inutile, è chiaro faccio allenatore del Venezia e quando facevo l'allenatore del Pescara dentro l'Aran erano tutti i rigori per il Pescara oggi è normale che erano tutti per il Venezia non volevo entrarci in un discorso perché secondo me l'arbitro ha abitato bene al di là degli episodi però c'è stata anche quella rissa finale che non è stata una bella cosa perché ragazzi, perché questo motivo? perché già arrivi a fine campionato che i nervi sono quelli che sono e non recuperi fisicamente non recuperi a livello nervoso però dopo si è tutta ricomposta mi è sembrato più fuochi di artificio che alle risse vere sono altre Primo rigore allora? C'era? No, dico, ero lontanissimo mi sembra che è stato bravo Boccalonni a guadagnarselo la sensazione però visto che mi hai stimolato in questo ti devo dire che forse l'ho rivisto in televisione ce n'era un altro, un fallo di mano di Marras adesso tu ti metterai a ridere però la vogliamo, facciamo così forse era più quello che il primo L'ultima da parte mia Cosmi ha detto abbiamo cambiato modulo noi ci aspettavamo la difesa a tre invece ha giocato a quattro un po' a specchio con il Pescara perché? Perché innanzitutto io non sono un integralista come definizione nel senso che se poi mi trovo per motivi contingenti a giocare una squadra che non può interpretare un sistema di gioco cambio e devo essere sincero il nostro 3-5-2 non è mai decollato come volevo io e forse avrei dovuto cambiare prima il problema è che l'organico che ho avuto a disposizione è troppo falciliato da assenze importanti quindi a volte aspettavo perché dicevo magari rientra quello e riusciamo a esprimerci meglio invece rientra uno ne perde due esatto ma soprattutto vabbè un discorso lungo però nel 3-5-2 prevede ovviamente una fase difensiva però prevede ripartire in una certa maniera è importantissimo il primo passaggio diciamo che se nel 3-5-2 del Venezia se avessi Brugman e Meleconi o qualcuno che è stato a casa o Mepemushay va sicuro che seguitava a giocare 3-5-2 Cosmi un'ultima battuta torniamo indietro di qualche anno lei quando andò da Pescara ci rimase male pensava di restare? no no questa è una favola che assolutamente non è così cioè io ho accettato Sebastiani ve lo può confermare con assoluto ma guardate io sono una persona di calcio e accetto tutto infatti l'ho chiesto da persona di calcio e sincera qual è? no no ma accetto tutto allora chi tra virgolette comanda chi decide le strategie è giusto che prende decisioni che spesso sono giuste sbagliate si aspettava di restare? ma no no diciamo che sono arrivato che la squadra era un'ottima squadra però era un gruppo da ricostruire soprattutto sotto alcuni punti di vista ma io mi sono trovato bene con i tifosi con la gente a Pescara mi sono trovato bene è chiaro che non ho potuto dare il meglio di me stesso perché era una situazione contingente l'ennesimo subentro quindi io l'ho detto prima ormai sono come quello della protezione civile cioè entro dopo i terremoti metto nel metto e tutti pretendono che in un anno ricostruisca le case invece purtroppo non sempre capita però non sono rimasto male assolutamente a Pescara e il presidente lo può confermare perché continuano ad avere un rapporto assolutamente positivo con lui come non sono rimasto male l'anno scorso ad Ascoli insomma voglio dire quindi sono andato via evidentemente di me si apprezza l'emergenza e quindi non lo so se sarò in grado di lavorare sempre in emergenza mi piacerebbe costruire qualcosa quando ho mandato la possibilità di farlo tipo Trapani credo che a Pescara si ricorrono per esempio molto bene molto bene che è stato quella è stata una partita svolta per due società è stata un pochino la rovina del Trapani perché avrebbe voluto andare in Serie A tutti ricordano quell'abbraccio tra lei e Oddo lei che piangeva e Massimo Oddo che la venne a consolare sì sì assolutamente sì però è stata un po' la rovina di tutti e due noi che siamo rimasti in B e il Pescara che è andato in A grazie grazie grazie